che cos'è quello che è venuto a cercare un tocco di magia in questo mondo ossessionato dalla scienza un tonico una pozione e che effetto fa lei quanti anni mi darebbe non saprei andiamo senza cercare di adularmi 38 28 23 io ho 71 anni suonari ecco che effetto fa arresta il processo di invecchiamento all'istante e lo costringe a regredire beva quella pozione e non invecchierà mai più neanche di un solo giorno non la beva e continuerà a vedersi imputridire e quanto costa l'argomento finanziario è così volgare ho idea che non sia tanto semplice vede il costo è diverso a seconda della persona ma per me quanto sarebbe è stato un piacere ora devo proprio andare sieda mi porga la sua mano ma che sei matta osservi a segno va bene certo ma lei deve farmi una promessa il segreto che dividiamo non dovrà mai essere rivelato lei potrà continuare la sua carriera per dieci anni dieci anni di perfetta immutata bellezza ma alla fine di questo periodo prima che la gente divenga sospettosa lei deve scomparire dalla vista del mondo per sempre potrà ritirarsi potrà tornare una falsa morte oppure come disse greta una delle mie clienti io voglio rimanere sola no anche lei anche lei o la va o la spacca adesso devo avvertirla di una cosa adesso mi deve avvertire abbia cura di se stessa lei è il suo corpo dovrete restare insieme per lungo tempo sia buona con lui sempre viva sempre eternamente viva grazie a tutti Non è possibile! Guarda che... Sono una ragazza! Sssssh! Ernest! Ernest, non dobbiamo! Sì, lo so, lo so! Oh, Ernest! Ernest, non ti arrabbiare con me! Io cerco di oppormi con tutte le mie forze! Ma tu...